Lunghe file al palacolle dell'Ara di Chietti per le vaccinazioni, con un'attesa anche di due ore. In molti sono oltre ottantenni per le terze dosi. Tutto questo ha spinto il sindaco Diego Ferrara a chiedere alla ASL di potenziare i servizi. Sono state attivate altre due linee per una situazione di emergenza. È necessario, ha detto Ferrara, evitare che l'AB diventi una concentrazione di persone. La situazione attuale sta gradatamente migliorando con l'aumento delle linee di lavoro. Le linee di lavoro sono fondamentalmente le postazioni in cui l'infermiere e il medico accolgono i pazienti e somministrano loro il vaccino. In pratica adesso sono funzionanti sei linee a pieno regime e ieri, da parte della protezione civile presente al palazzetto e con la quale sono continuamente in collegamento, mi ha detto che il tempo di attesa dalle due ore e mezza e a volte oltre dei giorni precedenti è scesa ad un'ora. Il che non è che è molto confortevole, soprattutto per le persone più anziane? Assolutamente, ci mancherebbe altro. Però bisogna anche dire questo, che stiamo vivendo questo momento per l'ampliamento delle vaccinazioni di terza dose, quelle dette di richiamo, che si sono aperte in brevissimo tempo. C'è anche il discorso che vengono tantissime persone non prenotate sulla piattaforma della ASL e vengono tantissime persone anche dai paesi viciniori e sembrerebbe che ci siano state delle chiusure di hub vaccinali nell'area metropolitana, in queste zone, per cui tutti convergono a Chieti e nella stragrande maggioranza sono non prenotati. Io capisco il disagio delle persone, delle persone anziane, però secondo me continuiamo a dimenticare che siamo ancora in una situazione di emergenza. Ora, se la ASL potesse riaprire o far rifunzionare a pieno regime anche il centro vaccinale di Chieti Alta, situata nell'ospedale Sandissima Annunziata, nel vecchio ospedale Sandissima Annunziata, certamente ci darebbe una mano. Io capisco che il personale sanitario tra medici e infermieri è allo stremo, però anche il personale della protezione civile che dipende direttamente dal comune certamente non è che stia meglio.